Un quarantenne sassarese è stato arrestato dagli uomini della polizia locale per rapina. I fatti si sono svolti lo scorso 27 maggio nel centro storico. L'uomo, colpito dal provvedimento cautelare messo dal GIP del Tribunale di Sassari, è accusato della rapina ai danni di un coetaneo che è aggredito con una raffica di pugni sferrati in pieno volto. La vittima era stata colpita mentre si trovava a poco distante da Piazza Santa Maria, seduta sul gradino della vetrina di un supermercato. Tutta la vicenda era stata ripresa dalla telecamera e dal sistema di videosorveglianza. L'azione è stata talmente veloce e violenta da non lasciare scampo al malcapitato che dopo essere stato aggredito è stramazzato al suolo senza sensi. A quel punto il rapinatore si è impossessato del portafogli che l'uomo teneva nella tasca di pantaloni. Ha prelevato 180 euro in contanti, rigettando il portafoglio sul poveretto che giaceva esanime sul marciapiede e si è allontanato velocemente. L'identificazione dell'autore della rapina è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere e alle numerose testimonianze raccolte dagli agenti. Questa mattina a quarantenne è stato bloccato in via Padre Zirano dove attendeva il pullman per allontanarsi dalla città e dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Bancali a disposizione del magistrato.